Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione, si è fatto attendere tantissimo, c'è stata anche l'estate di mezzo, ma ecco tra noi Vegeta 24000 Power Level, che non sarebbe altro che il Vegeta su Namek, eccolo qui nella sua confezione ragazzi Per il momento purtroppo non potete trovarlo sul mio sito Ara Shop, però sto cercando di capire se il fornitore ha qualche copia avanzata per farmene dare Edizione limitata, me l'avete prenotato in tantissimi, ne avrete dovuti prendere di più? Sì, ma fidatevi che ne ho presi già tanti, quindi non mi aspettavo veramente così tante prenotazioni Io vi ringrazio come sempre per tutti questi ordini, ma andiamolo a vedere fuori dalla confezione Ed eccolo qua ragazzi, con tutti i suoi accessori andiamo subito a vedere le manine intercambiabili, che vabbè sono le solite, eccole qui Quelle per il Final Flash, anche se qui non è ancora in grado di farlo Abbiamo queste qui per il Big Bang Attack e queste qui invece a palmo spalancato classiche Poi abbiamo braccia concerte immancabili per ogni figure di Vegeta che si rispetti E poi abbiamo tre visi intercambiabili, questo qui sorridente, bellissimo ragazzi, qui abbiamo lo slot per inserire appunto il rilevatore Quest'altro sempre con lo slot per il rilevatore con bocca spalancata Spettacolare ragazzi, questo è il vero Vegeta Poi faremo il confronto con il vecchio Vegeta, vi farò vedere perché E questo qui ragazzi, con denti stretti Vedo un orecchio mobile, attenzione Questa non me l'aspettavo, pensavo sinceramente che questo fosse l'unico viso dove non si poteva mettere il rilevatore E invece no, in tutti si può mettere il rilevatore e in tutti si può mettere l'orecchio Figata questa ragazzi Finalmente Bandai sta imparando a fare le cose Come si deve, avevamo già visto questa cosa qui però non me l'aspettavo su questo Vegeta sinceramente E adesso andiamo a vedere appunto la nostra figure più nel dettaglio Eccolo qua Viso base leggermente sorridente Eccolo qui Il Vegeta di Akira Toriyama Saga di Freezer, Saga Saiyan E questo ragazzi, è questo Capiremo meglio dopo, ripeto Armatura fatta molto bene E poi il blu Non ci sono sfumature da nessuna parte Purtroppo ci sarebbero volute L'unica, diciamo, secondo me pecca di questa figure Ma andiamo a vedere le articolazioni e poi faremo il confronto Ovviamente Testa molto molto mobile, così come anche il collo Guardate qua, che movimento incredibile Anche rotazione naturalmente Le spalline sono articolate con questa nuova cerniera Guardate, si sposta, può ruotare e può muoversi sopra e sotto Quindi figata questa articolazione delle spalline Che chiaramente non vanno ad impedire l'articolazione al braccio Che è dotata di butterfly joint Può aprirsi chiaramente benissimo Poi abbiamo la rotazione a 360 gradi ovviamente Rotazione al bicipite Articolazione doppia al gomito Piegamento al polso Nonché rotazione Mezzo busto in avanti e indietro Anche laterale Rotazione Vita può ruotare C'è un leggero movimento in avanti e indietro Gambe in avanti Gamba all'indietro Qui sono tornate queste parti qui Ma secondo me non stonano su questo vegeta Rotazione qui Piegamento al ginocchio Piegamento al piede in su Piegamento al piede in giù Ottimo Rotazione laterale E piegamento alla punta del piede Ma andiamo a fare subito il confronto Eccolo qua L'ho portato apposta ragazzi Il vegeta Seconda versione in realtà A parte che è un po' più alto E hanno aggiustato quindi l'altezza L'hanno fatto leggermente più basso Secondo me hanno fatto bene Ma proprio il viso ragazzi Il viso è qualcosa di veramente diverso Questo qui era un mero riciclo Come avevo detto anche ai tempi Del viso Del vegeta Super Saiyan Della saga di Cell Era quello E si vede questo ragazzi il disegno di Akira Toriyama Su questo vegeta in questo particolare arco narrativo E questo E Bandai dovrebbe fare sempre così Dovrebbe tenere conto dei disegni di Toriyama Non dovrebbe fare semplicemente dei ricicli Ora domanda da un milione di dollari La testa è intercambiabile per trasformare questo Nel vegeta definitivo con questa testa Lo vedremo subito ragazzi Mi sembra proprio di si E si E si E si Eccolo qua Il vegeta definitivo Della saga dei Saiyan Ragazzi Ci voleva poco Ci voleva una testa fatta bene Guardatelo Guardate come cambia Come cambia tutta la figure Grazie a questa testa Pazzesco Peccato Non abbiano incluso una doppia testa Magari in qualche modo Con capelli magari anche leggermente Mossi Per dare la possibilità Di esporli entrambi Con questa testa qui Perché questa qui ormai è datata Questa è veramente datata ragazzi A confronto Non c'è proprio paragone Non c'è paragone assolutamente Ed eccoci qui con la nostra classica misurazione Dell'altezza Il nostro vegeta va a toccare Per la precisione i 15 cm Quindi 6 pollici spaccati Risulta in realtà alto quanto Goku Se contiamo i capelli Però sappiamo che l'altezza si misura dalla spalla E come vedete è ben più basso di Goku E ben più basso anche di quest'altro vegeta Secondo me ripeto hanno fatto una buona cosa Ad abbassare un po' l'altezza Eccolo a confronto con una Marvel Legends Con il mitico Monza Spider-Man Marvel Select Ed eccolo qua ragazzi Sulla basetta rotante Con forse il viso più caratteristico Di cui è dotata questa figure Eccolo Eccolo qua Il vero vegeta Finalmente Bandai sta facendo le cose come si deve Sono contento della piega che sta prendendo Questa linea E spero che si assesti su questo standard Ovvero tenere conto Di particolari importantissimi Come i visi Come i visi dei personaggi Che sono la cosa più importante Sono la cosa più importante L'espressività che dava Toriyama a questi visi Si andava a perdere completamente Facendo questi meri ricicli Ragazzi Diamo i voti Allora accessori Do un 9 pieno Mi ha stupito la cosa dell'orecchio intercambiabile Perché si L'avevo già vista Ma ripeto non me l'aspettavo proprio Per quanto riguarda Le articolazioni sono ottime Perfette Cioè praticamente può fare qualsiasi movimento Possiate immaginare Ottime anche Le spalline Come si muovono Per quanto riguarda l'estetica È un 9 È un 9 pieno Non è dotato di sfumature Potevano metterle E avrebbe preso il 10 Così ragazzi È il viso che fa tutto ragazzi Il corpo è praticamente lo stesso Hanno semplicemente Allargato un po' Il torace E hanno modificato un po' Il colore qui Secondo me l'hanno reso più fedele Ma ragazzi È la testa È il viso che fa tutto È quello il segreto E dovrebbero capirlo In realtà lo sanno benissimo È semplicemente che Molte volte sono pigri Vogliono solo riciclare Ragazzi Questa è una figura da 9 pieno Secondo me A mani basse Ho potuto premiare Anche con questo voto abbondante Bandai Che finalmente Ci ha dato un viso Come si deve Di Vegeta Probabilmente il miglior viso Mai fatto per Vegeta Da Bandai Per quanto riguarda Ragazzi Il resto Purtroppo Non potete ancora Trovare questa figure Sul mio sito Arashop Sto facendo di tutto Per smuovere il fornitore Per prendere più copie possibili Se ne sono rimaste Nel suo magazzino Sto tentando di scavare Ma Sto aspettando risposta Ma La vedo difficile questa volta La vedo molto difficile Anche perché Appunto molti Hanno fatto la doppia copia Proprio per quel motivo Della testa Ragazzi Comunque Fatemi sapere cosa ne pensate In un commento qui sotto Il like al video Se è prestissimo Così come anche la condivisione Vi ringraziamo sempre Per la visione Ciao da Arada Vegeta E quali sono sempre Ciao